Cambio al vertice dell'Associazione La Semina che opera in provincia di Recco, in particolare nell'area meratese della Brianza. Il nuovo presidente è Stefano Covino, ricercatore della sezione di merate dell'osservatorio INAF di Brera. Sono un astrofisico, ovviamente come ha appena detto, mi occupo in generale di astrofisica delle alte energie. Poi personalmente sono una persona che si interessa di questioni culturali, di società, di scuola, di istruzione. Amo molto fare divulgazione in astronomia. La Semina mi ha invitato, un o tre anni fa, a tenere una conferenza divulgativa delle cose di cui stavo discutendo, menzionando poco fa. Poi abbiamo cominciato a collaborare con attività, con le scuole, anche con enti pubblici, con istituzioni e mi è molto piaciuto l'approccio che ha la Semina. Cioè questa idea di proporre cultura tutto tondo, senza particolari filtri, rivolgendosi all'opinione pubblica, ma anche alle istituzioni e in particolare alle scuole, che è forse il settore che più merita e ha bisogno di attenzione nella nostra società. A breve devo sicuramente menzionare una conferenza che si terrà a Merate, la sera del 4 giugno, che sarà dedicata alle meraviglie delle scoperte recenti in astrofisica sui pianeti extrasolari. C'è una conferenza abbastanza interessante, quindi non solo però di scienza, perché verrà accompagnata da brevi momenti in cui abbiamo degli esperti di altre discipline, per esempio di letteratura, di musica e di arte, che ci spiegheranno in maniera molto semplice, si intende proprio aperto al pubblico più generico, quanto anche nella letteratura, nelle arti figurative o nella musica, le suggestioni celeste, diciamo così, hanno sempre avuto ruolo. Qui a Lecco stiamo compiendo un lavoro molto interessante col patrocinio della provincia e con alcune aziende dell'area lecchese che si dedicano in generale al tema dell'energia. Stiamo radunando degli esperti di varie discipline per compiere uno studio che possa indicare delle linee guida sulla gestione del problema energetico a livello locale. Abbiamo una pagina Facebook che al momento è stata rinnovata ed è ricca di informazioni, abbiamo un sito web, la maniera più semplice è il classico Google La Semina Merate e si trova tutto. Contattateci.